Riprendiamo con l'ultima carrellata di Talk e questa volta io ho il piacere di avere al mio fianco sul pubblico, sul palco degli O2 Days Italia Enrico Pirozzi che ci parla di un argomento che è sinergico con O2 perché O2 di fatto è basato su Postgres SQL per cui ci sono delle funzionalità che tornano molto utili sulle installazioni di O2 ed Enrico è un esperto, tra l'altro io ho avuto il piacere di fare un corso di formazione qualche anno fa a Potenza su Postgre, qualcosa la ricordo ancora C'è anche Antonello, Ciro, insomma è stata molto interessante per cui vi lascio ad Enrico qui c'è il tuo giraslide e buon lavoro, un applauso perché è una new entry ovviamente Buonasera a tutti Allora mi metto di lato così, aspettavo la musichetta Allora, ci svegliamo un po' dai Ok, cominciamo Allora, andremo a parlare Io mi occupo di Postgres nella mia vita, faccio il Postgres di BA quindi mi occupo espressamente e soltanto di Postgres Oggi cercherò di tagliare un pelo velocemente l'argomento perché in realtà avevo preparato anche le repliche, cerchiamo di farcela Nelle slide troverete anche i file di configurazione Io oggi sulle configurazioni magari bypasso un pochino perché altrimenti allunghiamo un po' però c'è tutto sulle slide, nel caso mi fate domande dopo e rispondo Allora, iniziamo con un po' di teoria Un po' di teoria e iniziamo così come ce l'hanno insegnata all'università Cioè, ci hanno insegnato che le transazioni iniziano con un begin e finiscono con un commit No? Giusto? Datemi un segno di vita Dopo il caffè, dai, siamo svegli, su, forza Ok Quindi, begin, una serie di statement, commit Dopo che il commit ci hanno detto a quel punto il dato, boh, è sul disco e quindi è sui dischi, insomma Siamo a posto, siamo sicuri, siamo strassicuri Ma siamo sicuri che internamente le cose vadano proprio così? Domanda Come? Forse, esatto In realtà non vanno proprio così Allora, facciamo un passettino indietro Ok, facciamo un passettino indietro I dati in Postgres, come in tutti i database, sono paginati Ok? Quindi in realtà noi non scriviamo un record alla volta Scriviamo pagine E sono pagine da 8K Queste pagine vengono caricate in una zona di memoria Chiamata shared buffer Quindi quando voi scrivete, fate operazioni di scrittura su Postgres Questi dati vengono messi su delle pagine Queste pagine vengono caricate in memoria Scaricate sui dischi, caricate in memoria, caricate sui dischi Questo è un po' il concetto base Dopodiché, quando io vado a fare un'operazione di scrittura Ci sono dei file lettini Se qualcuno ci ha mai avuto Quando facciamo i corsi, la prima cosa che diciamo Non cancellate mai la directory pgwall E' capitato anche questo Cancellando la pgwall il sistema si pianta Perché? I file di wall sono dei file binari Dove dentro Postgres scrive che tipo di operazione vuole fare Cioè voglio fare un update a 100 milioni di record Ecco, lì va a scrivere in maniera binaria Faccio un'operazione da 100 milioni di record Poi la va a fare Ok? E quando la va a fare Ricordatevi che siamo sulle pagine, sulle data page Quindi comunque lui la va a fare In una zona di memoria Quindi un po' di pagine saranno in memoria Un po' saranno sui dischi In base alla disponibilità della memoria in quel momento Arriva il commit E il commit viene scritto qua Ok? Viene eseguito il commit sulle pagine E poi viene scritto qui A quel punto voi avete il dato in uscita Il DB vi dice Ho fatto quello che devo fare In realtà i vostri dati Molto probabilmente Ancora saranno in memoria Non saranno sui dischi Ok? Tenete conto di questa cosa Chiaro? Fino a qui? A un certo punto cosa succede? A intervalli più o meno regolari In base alle politiche di configurazione Arriva un processo che si chiama checkpoint Il checkpoint non fa altro che prendere Sti dati dalla memoria E li butta sui dischi Ok? Quindi fondamentalmente I dati sono sul disco veramente Dopo il checkpoint Ma a noi di questa cosa Ci interessa davvero poco Perché? Perché fondamentalmente Se un sistema Dovesse andare in crash Per esempio Ok? Mettiamo che A un certo punto A metà tra un checkpoint e un altro Il sistema va in crash Quando il sistema riparte Cosa fa? Lui va sul wall file Va a vedere l'ultimo checkpoint fatto E poi ripercorre Tutte l'operazione di scrittura Che ha fatto dall'ultimo checkpoint Fino alla fine Ok? Questo è un sistema Che utilizzano tutti i DB Lo utilizza In Oracle si chiamano Undo file Redo file In SQL Server si chiamano Transaction log Cioè ogni sistema Di DBMS funziona in questo modo Quindi fondamentalmente I file di wall In Postgres Servono per che cosa? Per velocizzare L'operazione di scrittura Perché altrimenti Se devo fare un update Di 100 milioni di record Su una tabella Ci posso mettere Non dico una vita Ma lì vicino In base Come la macchina A quante grande E così via Le domande le facciamo dopo magari Andiamo avanti Andiamo un po' nel dettaglio Allora Supponiamo che io Abbia cancellato Dei record E dice Cavolo Ho cancellato La tabella delle anagrafiche Porca miseria L'ho cancellato E adesso che fanno? Vabbè Dice Ho il mio backup Perché io Ho schedulato Sul mio cron Alle due di notte E quindi sono Sto tranquillo Peccato che però La cancellazione L'ho fatta Alle dieci di mattina Quindi fondamentalmente Tutto Se io vado a riprendere Un backup Delle due di notte Tutto quello che è successo Dalle due Alle dieci di mattina Ciao core Se n'è andato Ok Allora Che cosa fa lo sviluppatore In azienda? Vado al sistemista E il sistemista Boraccio Che gli dice? Gli dice Ok ma Una piccola regola No? Cioè Non fare i test Sui dati di produzione Questa è La base Ok Gli dice la cosa più ovvia Fondamentalmente non può fare nulla Da un backup Viene da un DBA Adesso siamo un po' di parte qui E che cosa possiamo fare noi? Noi partendo Se avessimo archiviato Tutti i wall Dall'inizio dei tempi Mettiamola così Quindi Partendo da un punto Dove Il Dove il Il dato Da un punto consistente E Srotolando tutti i wall Quindi Ripercorro tutte le operazioni Che ho fatto Io posso fondamentalmente Fermarmi prima Di aver fatto la cancellazione E quindi Questo è quello che si chiama Paypoint in time recovery Andremo a recuperare Il dato prima Adesso vediamo come si fa Ok? Chi siete? Questo è un po' Il cappello introduttivo Fondamentalmente Vi deve rimanere in testa Che Postgres Quando scrive Il modo con cui scrive Postgres È questo Vado su wall Dico che faccio Un'operazione di scrittura La faccio Vado al commit Scrivo sul wall Ho fatto l'operazione E poi c'è il checkpoint A sto punto Se io questi file di wall Li archivio Faccio il disaster recovery Se li passo in streaming Su un'altra macchina Faccio una replica Asincrono o asincrone In base a come la voglio fare Questo è un po' Il concetto Di fondo Quindi Point in time recovery Point in time recovery È La possibilità Di ripristinare Il db In qualsiasi istante Nel passato In maniera continua Ok Quindi si basa Su un concetto Di hot backup Quello che vi dicevo io Un punto fermo Da cui partire Ho un backup Fatto a caldo Nella realtà Poi viene fatto a caldo Con un comando Che si chiama Apg base backup Viene comunque fatto Una copia a caldo Del database Quindi Il nostro sistema Continua sempre Ad andare in produzione Non viene mai fermato E si fa Utilizzo dei wall Ok Quindi come ho detto prima Avendo i wall segment È possibile ripristinare Qualunque istante temporale Nel passato Fondamentalmente Quando facciamo un ripristino Noi simuliamo un crash È quello che vi ho detto prima Cioè noi facciamo Partire la macchina Dall'altra parte Come se fosse Ci fosse stato un crash Fondamentalmente Invece poi Che srotolare Tutti i wall Se li srotolo tutti Vuol dire che arrivo All'ultimo istante E quindi Ho il backup Cioè vado All'ultimo wall Che ho archiviato Fondamentalmente In quel caso no Perché allora Se io Adesso sono le 4 del pomeriggio Mi accorgo del problema Alle 10 c'è stato il problema Di cancellazione Io vado Sul mio sistema Di disaster recovery Dico fammelo tornare Alla transazione Prima Di cui c'è stata La cancellazione Quella prima Posso decidere Poi posso decidere Se dargli un target time Temporale O un target time A livello di ID di transazione Questo poi Posso deciderlo io Ok Quindi Vabbè Questo Diciamo L'abbiamo Appena detto Fondamentalmente Se Andiamo a specificare Come target time Un istante del futuro Chiaramente lui non può Prevedere il futuro Primo Se devo parlare di Intelligenza generativa Posg Sennò è molto più Terra a terra Se non c'è il futuro Ti dà fino a dove c'è Quindi fino all'ultimo Wall è conosciuto Ok Le configurazioni Del cluster Affinché Dobbiamo configurarlo Questo cluster E quindi La configurazione del cluster Deve essere Una configurazione del cluster In modo che lui possa Esportare i wall segment Ok Eseguire Il backup Dei dati E poi eseguire Il backup Dei file Dei file di wall Abbiamo tanti modi Per poter fare Questa cosa La possiamo fare A manina A mano Ok Oppure usando dei tool Io preferisco Ci sono tanti tool In realtà PG Backrest È un tool Sviluppato da Crunchy Data Mondo Red Hat Quindi Molto figo Passatemi il termine Perché? Perché ti consente Di parallelizzare I processi Con cui Vai a fare Il ripristino Perché poi Il problema Sono i tempi Di ripristino Di una macchina Se io devo Ripristinare Molte volte Questa roba qui Viene usata anche Per riportare In test Una problematica Di produzione Cioè Se io ho Un picco di carico In produzione E voglio riportare Il DB in test Con tutto lo sporco Che ha anche il database Quindi bloating E tutto quello Annessi e connessi Lo voglio riportare In test In modo migliore Attraverso il disaster recovery PG Backrest Facciamo un esempio Su un database Da un tera Per dire Riesce tranquillamente A riportarlo In 10-12 minuti Tranquillamente Aprendo Chiaramente avendo Un numero di core Parliamo di macchine Che magari C'hanno 64 core Per dire E quindi comunque Su macchine grosse Riusciamo in qualche modo A PG Backrest È anche molto Cool Perché ci consente Di archiviare Tutto Backup Wall Cifrare Comprimere Archiviare Sparare direttamente Su bucket E quindi andare direttamente Nel mondo cloud Potete decidere Se andare sul mondo S3 AWS Quindi Azure O Google DCP Supporto a tutte e tre Le piattaforme Il mondo PG Backrest È fatto in questo modo Cioè Abbiamo Il postgres Da una parte Dall'altra parte Abbiamo il repository Che può essere O un file Oppure Può essere Cioè un file system Oppure può essere Un cloud Ok Le due versioni Di PG Backrest Devono essere Si installa PG Backrest Sia su postgres Sia sulla macchina Che fa Disaster Recovery Ok Devono essere le stesse Le due macchine Comunicano Scusate Attraverso il protocollo SSH Scambio chiave pubblica Privata Ok E si parte Sempre da un base backup Iniziale E E nel momento Nel momento in cui Io parto Con il base backup Iniziale Su questo tunnel SSH In automatico Lui fondamentalmente Fa partire anche La copia dei wall Quindi PG Backrest Funziona con PG base backup Più wall Più backup Ok Cioè I wall Rimettono a posto Perché Qual è il problema Il problema è che Io quando faccio partire Un base backup Cioè un backup Binario Di file Da Postgres Verso il disaster recovery Ci posso impiegare Anche un'ora Per dire A fare sto backup Faccio un esempio E nel frattempo Il sistema gira E quindi Devo tenere tracce Di tutte le transazioni Le transazioni Di scrittura Vengono tenute tracce All'interno Del file di wall Allora Vado su una configurazione Molto velocemente Abbiamo ancora Dieci minuti Quindi ci riusciamo Poi passiamo sulla replica Il wall level Qualcuno di voi Ha messo mai dentro Le mani a Postgres Per avere un'idea Ok Quindi se parlo di Postgres conf Sapete cosa dico Diciamo Ok Il wall level Di Postgres Ha tre livelli Fondamentalmente Io qui ho messo Maggiore uguale replica Se lo fate così È un errore Cioè Deve essere O replica O logical Ok Maggiore uguale Perché vuol dire Che avete il minimo Il replica E il logical Il replica contiene Il minimal Il logical contiene Il replica E il minimal Cosa vuol dire Contiene Vuol dire che le informazioni Scaricate all'interno Del wall Sono più verbose Mano a mano Che andiamo avanti Perché servono Per fare più cose Dobbiamo aprire L'archive Su Postgres Quindi qui siamo Sul file del postgres.conf E dobbiamo andare a dire Come archiviare Questi file Semplicemente Andiamo a dire Il file di wall Una volta che l'hai usato Oltre che Copiato Nella pg wall Lo vai a mettere anche Lo passi anche In questo caso Al demone Pg backrest Che ho installato E il quale Al quale nome Pg backrest I vado a dare Un nome di una stanza Cioè cosa voglio dire Quando configuro Pg backrest Io vado a Identificare il database Come stanze Ok Un'istanza in Postgres Diventa una stanza Una cartella Per capirci Sul repository Che stiamo archiviando Ok Passiamo sempre Questa è la modifica Del pg backrest Lato postgres Fondamentalmente Gli diamo L'ip Della macchina Dove è il repository E poi Gli diamo Uno username Di collegamento Tipicamente Potete usare anche Postgres O pg backrest Con i permessi Di lettura Sulle cartelle Postgres La stanza Che sarebbe Come viene salvato La mia istanza Postgres In remoto E un nome Una label Che io gli do Questa è la configurazione Lato pg backrest Adesso vado Molto velocemente Poi il limite Come ho detto prima La possiamo riprendere dopo La cosa figa è questa Io gli posso dare Il numero di processi Paralleli Con cui fare i backup Adesso qui C'erano messi due Ma se ho una macchina Che ha 64 core Qui metto Oddio scusate Metto tranquillamente 64 128 Dirego Cioè 128 file in parallelo Vengono passati Da una parte a un'altra E quindi chiaramente La cosa è molto Molto veloce Posso dargli Per esempio Posso mandarlo su bucket E quindi vado Vado praticamente Su In questo caso Sono su google GCS Gli dico Path del bucket Gli vado a dire La key Del bucket Che mi viene passata La cifratura La mia super password Che metterò qui E tutto quanto Viene buttato Su un bucket Un bucket Che mediamente Potrà costare Quattro centesimi Al giga Più o meno Dipende poi Dai prezzi Però comunque Parliamo di prezzi Molto molto bassi Livelli di compressione E così via Ok Questa è un po' L'architettura finale Cioè avremo N Io con un pgback resti Io posso controllare Più istanze Postgres E andarle a backuppare Su più istanze Pgback resti Ok Semplicemente Qui andiamo a fare Con questo Andiamo a creare Una volta che l'ho configurato Creo la stanza Sul bucket Quindi crea la cartella Le sottocartelle La struttura Faccio un check Gli vado a dire Se le comunicazioni Sono ok Vado a fare il primo Punto di ripristino Il full backup Iniziale Da cui poi con i wall Posso andare a ricostruirmi Tutta la storia Posso decidere Di farne anche Normalmente Perché poi il concetto È essere molto molto veloci Nel ripristino Ok Quindi fondamentalmente Il problema è questo qua Cioè Quindi Alle volte cosa si fa Si fa un full backup Magari la domenica Gli altri giorni Fai dei differenziali O degli incrementali In modo tale che Quando vado a fare il ripristino Lui parte dal full backup Scorre tutti gli incrementali Magari fino all'ultimo Cale 3 di notte L'ultimo pezzetto Lo ricostruisce Tramite wall E in questo modo Velocizziamo Ok Un esempio Di point in time recovery Molto semplice PG backrest Dalla macchina postgres Gli do il nome della stanza E gli dico Adesso lasciamo per Gli altri parametri E gli dico Fondamentalmente Quando voglio Che il database Venga ripristinato E poi fa tutto lui Chiaro un po'? Ok Nell'ultima parte Andiamo a vedere Invece molto velocemente Cosa possiamo fare A livello di replica Allora Per capirci Questi due argomenti Sono minimo minimo Tre giorni Di quanto facciamo i corsi Sono due giorni e mezzo Quindi È un po' Un super sunto Le repliche in posghe Sono un mondo Ok Possiamo fare repliche fisiche Repliche logiche Repliche bidirezionali Possiamo fare repliche Sincrone Asincrone In cascata Dalla serie Ci possiamo fare anche Repliche logiche A partire da repliche fisiche Quindi comunque È davvero un mondo La replica fisica Il concetto Oggi vedremo un attimino Velocemente La replica fisica La replica fisica Come concetto È uguale A quello che abbiamo visto Col disaster recovery C'è una sola differenza Nel disaster recovery Noi archiviamo i dati Nella replica fisica Si fa un Base backup iniziale Quindi un punto iniziale Di backup E poi si passano i wall Mano a mano che i wall Arrivano sulla replica Vengono eseguiti E buttati via Oppure archiviati Dipende di quello Che vogliamo farci Però fondamentalmente Per eseguire la replica Il wall viene passato In streaming E viene eseguito Poi la posso fare Anche volendo Anche ritardata Gli posso anche dire Il wall Non me lo fai passare adesso Me lo fai passare Tra mezz'ora E quindi Alle volte capita In applicativi In cui si vuole Che le cancellazioni Ad esempio Di qua Sulla parte di replica Avvengano dopo Un delay di un tot Ok La replica Fondamentalmente La possiamo dividere In asincrone O sincrone Diciamo che La differenza Allora Normalmente Si fa in asincrono A parte casi particolari Pensa ad esempio Non è il caso Credo Vossomo I casi Di archiviazione In dati bancari Lì allora si va sul sincrono Perché chiaramente Il dato deve essere comunque Sia nel master Che sulla replica Quando è a che fare Con i dati di carta Dati di pagamento Normalmente La si fa in asincrono Perché Per un discorso di costi Perché se io c'ho Un master Un primary Che ha 16 core E lo pago 1000 euro al mese Su google Per dire È chiaro che Se faccio una replica Sincrona La replica di qua Deve essere fondamentalmente Identica La macchina Perché Perché La transazione Fa begin La transazione Viene eseguita di qua Ma è l'ultimo commit Che torna indietro Con ok L'ho fatto Ed è l'ultimo commit Che comanda Quindi se la macchina Di là è più piccola È chiaro che in sincrono Gli ampi più lenti E quindi Normalmente Le repliche Si fanno in asincrono Per risparmiare Sui costi Così faccio le macchine Sbilanciate E Diciamo C'è anche il discorso Che Se la rete è buona Mediamente Siamo Lavoriamo Con dei delay Attorno a qualche Parliamo di 10 20 50 100 millisecondi Non parliamo di ore Da che un wall Passa da una parte A che viene replicato Da un altro Ok Come si fa una replica Vabbè Andiamo a vedere Che le due macchine parlino Poi ve lo andrete a vedere Sulle slide Fondamentalmente Una volta Che abbiamo visto Che le due macchine Parlano Creiamo uno slot Sulla macchina master Cioè Lo slot Che cos'è È fondamentalmente Un Come posso dire È un Un oggetto In cui la macchina master Sa Qual è l'ultimo wall Che ha sparato Dall'altra parte Ok Serve per gestire La sincronizzazione Ci sono dei comandi Per creare gli slot E per cancellare Gli slot Ok Sulla macchina Secondaria Sull'altra macchina Spegniamo la macchina Postgres Sul Diciamo Adesso non si chiamano più slave Si chiamano secondary No Mi ha fatto Mi ha fatto modificare Tre capitoli Sull'ultimo libro Perché avevamo scritto Slave Lasciamo perdere Quindi si dice primary E secondary Ok Si può dire più E quindi La spegniamo Cancelliamo O spostiamo In questo caso Sulla 13 Ma sulla 16 Funziona allo stesso modo Cancelliamo i dati Sulla macchina Che andrà in replica Fondamentalmente Ok Creiamo una nuova cartella Data Gli diamo i permessi Postgres Alla cartella data Qui ci manca Credo un ch700 Deve essere un 700 La cartella data Ok E poi eseguiamo Il pgbase backup Questo fa tutto Fondamentalmente Gli andiamo a dire L'host Del primary L'utente Con cui io mi vado A collegare Che preventivamente Ho creato Sul master Io se l'ho saltato Un po' velocemente Ma qui Eccolo qua Ho creato un utente Replica role Con i permessi Di replication Sul master Ok E Quindi Gli vado a dare La porta Il path Scusate Il path Della cartella Dove c'è Postgres Ok E poi Gli andiamo A dire FP Andiamo a Fare una copia Uguale Cioè facciamo una copia Per directory File directory Quindi la stessa struttura Che abbiamo sul master La riportiamo Dall'altra parte Questo serve Per far sì Che nel momento In cui parte Il base backup Automaticamente Parte anche La sincronizzazione Dei wall In modo che Non perdiamo In modo che Non perdiamo nulla P Ci dà Se non vado errato Ci dà La progressione Sì La percentuale Di avanzamento R Ci dice Che è una replica Quindi crea Il file Listendhab Punto signal E meno S master È il nome Dello slot Che abbiamo creato Sul master Comunque come vedete Con una riga Facciamo tutto Ok Siamo quasi alla fine A quel punto Sulla macchina replica Semplicemente Lanciamo Postgres Lo lanciamo Start E lui in automatico Si sincronizza E quindi Abbiamo fondamentalmente Già creato La nostra replica Fisica Se ci colleghiamo Alla nostra replica Fisica E proviamo a fare Un'operazione Di scrittura Il sistema Ci risponde Occhio Sei su una replica Fisica Puoi fare solo Operazioni Di lettura Non possiamo fare Operazioni di scrittura Su una replica Fisica Ok Se vogliamo andare a vedere Se la replica Funziona Bene Abbiamo la nostra PG stat replication Che è una vista Che va interrogata Sulla macchina master Interrogando la PG stat replication Andiamo a vedere Che la macchina Diciamo In replica C'è È in streaming E questi sono i wall Che vengono spediti Vedete E il reply slnn È l'ultimo wall Che dice ok Siamo a posto Fino a sto wall In replica E questo è il tempo Di sincronizzazione Ci dice anche Che in questo caso Abbiamo fatto una replica Di tipo asincrono Ok Scusate se ho corso un po' Però era tanta roba Ho cercato di metterla insieme Ok Ci siete Ci sto con i tempi Ok Sei stato Magnificamente puntuale Sei stato puntuale Ce l'ho fatta Ok E a questo punto vi chiedo Qualcuno ha da replicare? Avete qualche domanda? Sì Prego Non lo so Chi è? Eccolo qui Occhio che Lui è un tipo tosto No 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 Siamo qui per questo Siamo qui per questo Siamo abituati Ma quindi Questo lavoro che ci hai fatto vedere È tutto Postgres standard? Postgres standard Tutto Postgres standard Open source E la versione che consigliate oggi Quale sarebbe? Allora la versione che consigliamo Dipende Nel senso che Postgres dalla 15 in poi Ha cambiato approccio Per quanto riguarda il mondo degli schema Ok Cosa vuol dire? Dalla 15 in poi per esempio Un utente che non è super user Faccio un esempio O che non è owner del database Non può scrivere sullo schema Non può creare tabelle sullo schema public Quindi io personalmente Siamo sulle macchine di produzione Ho già messo la 16 La 16.3 è l'ultima Perché chiaramente ha una totta di migliorie Però occhio agli applicativi Perché se voi avete degli applicativi Che creano tabelle con utenti Che non sono user O super user Sullo schema public Su una 15 avete un errore poi Dalla 15 in su 15-16 Fondamentalmente il concetto Che c'è Sulle nuove versioni di Postgres È un po' quello di portarlo Un po' come nel mondo Oracle Cioè L'utente Il database schema Più o meno farli collimare Cioè L'utente è lo schema Entri dentro E lavori nel tuo schema Quindi Ti conviene fare In quel caso Un utente Con il nome dello schema E poi Quando tu Ti identifichi con quell'utente Sei già dentro La tua schema Fondamentalmente In termini di performance Cosa consigli? Cioè Le ultime versioni 16 sicuramente Sì 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 Sono molto più performanti Sì sì Perché hanno comunque Introdotto migliorie Sul parallelismo di query Chiaramente io sto parlando Di database Adesso non so Le dimensioni dei vostri Database Però parlo di database Di una certa dimensione Quindi parliamo di B almeno da 200-300 giga in su Insomma Comunque database Che cominciano ad avere Dei dati dentro E Le ultime versioni Di postgres Comunque Sono Ottimizzate Sia per quanto riguarda Tutto il discorso Del La serie Per esempio Penso Tutta la parte Del parallel query Che è molto L'hanno ottimizzato L'hanno ottimizzato Molto C'è anche tutto Il discorso Per esempio Sulla serie Ci hanno introdotto Una gestione diversa Delle statistiche Quindi appesantiscono Meno la macchina Io consigliero L'ultime versioni Chiaramente E sul Per dare Ottimizzare Sono tre Tutto il bonus È andato Vai 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 Sto scherzando L'ultima In termini di Ottimizzazione Di un database Se hai qualche criticità Tu lavori per Ottimizzarlo Fai questi Sì 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 Io faccio quello di mestiere Nel senso Ottimizziamo database Query Facciamo Migrazioni Il mio lavoro è questo Non parlare di Migrazioni qui In questo contesto Domani lo scopri Domani lo scopri Scusate Migrazioni Da Oracle Alla Post Lì c'è un'altra Domanda Perché c'è sta luce Non vedo niente Sempre Ciao Sempre per quanto riguarda L'ottimizzazione Sì Puoi scalare Anche in orizzontale Più che in verticale Sì lo puoi fare Allora Lo puoi fare in diversi modi Tu parli dello sharding Fondamentalmente Quindi Allora se tu vuoi Scalare in sharding Su più nodi Postgres Puoi usare un extension Che si chiama Citus È un extension di Citus Data E Open Di Microsoft Fondamentalmente Che viene usata anche in Azure E questa Io per esempio Noi abbiamo in azienda Un'installazione Abbiamo avuto per un tempo Qui avevamo otto nodi Quindi tabella Partizionata Non solo Sulle tabelle figlie Gli puoi anche dare Uno storage diverso In modo che aumenti Il throughput Magari la monti Su due volumi Fai una tabella figlia Su un disco Una su un altro disco E le stesse tabelle figlie Poi le puoi spalmare Su più nodi Lo puoi fare Quindi diciamo Che avresti pure Toglieresti i limiti Dei DBMS Rispetto ai NoSQL Volevo dire Una delle Ma allora Postgres supporta il NoSQL C'è il JSON-B C'è il JSON-B Lo supporta anche In realtà Sono mondi diversi Poi comunque Sai cos'è Ci vuole l'attrezzo giusto In base a quello Che tu fai Poi oggi siamo nel mondo Dei microservizi Quindi comunque Viene usato magari il DB Specifico Per quel microservizio Certo Abbiamo finito C'è un'altra Qualc'altra mano Eccola là Però non fatelo scendere Per quello Dovete richiamare sopra E' lui E' lui Su su E' dietro di te Ah ok Ma c'era anche lui Che mi ha fatto Trovando Volevo chiedere invece Rispetto a Clustering E problemi Di default tolerance Io so che Postgres Gestisce solo cluster Non attivi attivi E' ancora così Nell'ultima versione E cambia qualcosa Allora Parliamo di Postgres nativo Se tu parli di Postgres nativo Uno strumento del genere Poi è la base Se tu la fai sincrona Non la sincrona Ma sincrona La base Per poi fare Tool Cioè per fare H Fondamentalmente Lo puoi fare Quindi puoi usare Tool di terze parti Puoi usare PG Purti Ci sono tantissimi Patroni Come? Non ti sento C'è un progetto Siamo una stolen Una cosa del genere Su Sì Ma ce ne sono tanti Diciamo che oggi Quello che va un po' Per la maggiore È patroni Diciamo lì L'architettura è un po' Diversa Perché tu hai tre Postgres Poi c'è un cluster Etcd E un Haproxy Replicato E a quel punto Tu interroghi l'Haproxy Che poi ti sposta Sul master di turno Il problema di sta roba È fichissima È bellissima Però poi costa Cioè Nel senso che Se tu hai un database Da un tera Poi avrai tre database Da un tera Questo è il punto Capito Cioè Se sei in cloud Alle volte Magari preferisci Vabbè Se non è proprio così Spinta l'applicazione Magari faccio una replica E basta Capito Però sì Si può fare C'era qualcun altro Sì Qui Seconda fila Che tipo di miglioramenti Si possono fare Su Postgres Per la business intelligence Per andarlo più veloce A fornirti i dati Nella maniera più veloce Possibile In che senso In lettura In lettura Allora In lettura Innanzitutto configurarlo correttamente Perché comunque Io sono stato molto Stato un razzo Ma lì c'è un mondo dietro Cioè quando tu Configuri una macchina Mediamente L'area di memoria Che tu dà Gli shared buffer Su una macchina dedicata Mediamente è un terzo Dai di RAM Della macchina di sistema E Altri parametri Tipo WorkMem La WorkMem È una memoria Che c'è su ogni processo Postgres Ed è una memoria Che serve per tutte L'operazione di ordinamento Quindi ordinamento vuol dire Anche order by Group by Distinct Cioè tutto quello Che riguarda gli aggregati L'ordinamento Passa per la WorkMem Cercare di aumentarla Laddove è possibile Perché è una per processo Quella aiuta Anche chiaramente E poi soprattutto Fare le query Come Dio comanda Perché spesso e volentieri Arrivano da noi E dice La macchina va piano Adesso Tu vai a vedere la query Una volta In casa una 5700 righe di query Dica Vabbè Ciccio Che ti posso fare Cioè C'hai buttato Dentro il mondo E molte volte Fare query Dove La macchina Possa avere Un approccio predittivo Alle volte Gli sviluppatori Cosa fanno Purtroppo Ma non è colpa loro È colpa dei framework Spesso e volentieri Ma inglobano Delle query Poi le chiamano In sotto query Dove magari Sono dei case Case when Case when E in quel caso Il case when Quando il DB Si trova un case when Davanti Il piano di join Mediamente è un asset loop Cioè il più lento che c'è Ovvero un prodotto cartesiano Tra le due tabelle Perché lui non riesce A prevedere prima Cosa può succedere Capito Quindi Avere ben in testa Se questo non basta Chiaramente A livello architetturale Puoi usare Faccio un esempio Potresti usare PG pool Con le query memory Allora a quel punto Lui fa cache Di query Se tu gli ridai La stessa query I dati non sono cambiati Però Qui sei già a un livello dopo Io la prima cosa che farei Ottimizzerei bene La macchina E le query Ok Con strumenti di monitoraggio Ce n'era un'altra qui Poi credo che abbiamo finito C'era un'altra domanda Sì Sì c'era il signore Chi scusa C'è il tariffario Per le domande L'architettura migliore Cos'è Linux Cosa usi Allora noi usiamo Linux Linux su file system X4 Alle volte anche su XFS Linux non hai problemi X4 Sì X4 Sì